posta roma juventus finisce 3 a 1 per la roma sconfitta meritata secondo me perché la roma gioca nettamente nettamente meglio di noi anche se la juventus inizialmente scende bene e col minimo sforzo va in vantaggio con le mine dopo siamo un po troppo presuntuosi e dopo solo tre minuti da roma pareggia nel secondo tempo proprio atteggiamento sbagliato poco cattiva e sempre troppo presuntuosa come atteggiamento la roma che chiude la partita meritando forse un risultato troppo largo ma sconfitta ci sta tutta il rigore su di baia c'era ma inutile attaccarsi all'arbitro abbiamo due match point contro crotone contro e bologna per chiudere chiudo capitolo scudetto ma prima la coppa italia bisogna cercare di chiudere le cose sicuramente io sono molto fiducioso ma serve la vera juventus in questo finale di stagione io ci credo sempre sempre molto fiducioso il vostro andrà buzzi di portotoli e sempre fino a fine forza i juventus